Tra le varie libere utilizzazioni, quindi proseguendo sul tema delle eccezioni del diritto d'autore, cioè situazioni in cui il diritto c'è e c'è qualcuno che sarebbe in teoria autorizzato a darci il permesso o a non darci il permesso per l'utilizzo delle opere, ma noi non chiediamo questo permesso perché la legge dice già che si può non chiedere questo permesso. Questo è un po' l'ambito in cui ci muoviamo, c'è anche l'articolo 71 ter, come vi ho detto alcuni li ho tagliati proprio perché non ce la possiamo fare, e dice questo che è libera la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico, scusate non del pubblico, ma destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti dati di cessione da licenza. Un articolo un po' barocco nella sua esposizione, però vediamo che ci sono tutte le cose da mettere a fuoco. Allora, come dicevo prima, è una comunicazione a singoli individui, non al pubblico, prima ho avuto io un lapsus, ma si occupa di messa a disposizione di singoli individui, cioè quei terminali, quei computer che sono messi in un locale della biblioteca in cui arriva l'utente, si siede e può guardare, che ne so, gli archivi del sole 24 ore degli anni 90 che sono stati digitalizzati. Deve essere, vedete, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali a venti, tale è l'unica funzione, questo è interessante, cioè non posso fornire un computer che è connesso anche a internet e che fa altre cose, ma deve essere mirato, cioè devono essere dei terminali stupidi, passatemi il termine, che fanno unicamente quello, cioè permettono all'utente solo di accedere alle banche dati interne. Situati nei locali delle biblioteche, accessibili al pubblico, quindi le biblioteche, sì, accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, dei musei, degli archivi. Limitatamente, questo è interessante, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni, cioè devono essere cose che voi avete in casa, che avete digitalizzato voi, quindi l'archivio del giornale, del Corriere della Sera, appunto che una volta si forniva l'utente cartaceo nei vari faldoni rilegati, adesso invece vengono a volte digitalizzati dalla singola biblioteca e messe a disposizione dal terminale. Oppure, attenzione, e non o, e non soggetti a vincoli derivanti dati di cessione della licenza, cioè io in questi terminali non posso mettere a disposizione, io biblioteca, non posso mettere a disposizione la banca dati, di, che ne so, di Elsevier con gli articoli scientifici. È diverso. Devo avere delle riviste che io ho in casa e cartacee che ho digitalizzato io come biblioteca. Se invece io ho pagato, sto pagando, acquisendo un abbonamento ad una banca dati di riviste scientifiche, non posso metterla lì a disposizione sui terminali, ok? Perché quantomeno non lo posso fare attraverso questo articolo, ma dovrò pagare una licenza ad hoc che l'editore di questa banca dati mi fornisce indicando quali sono i terminali, quanti sono i terminali, quanta gente frequenta la biblioteca normalmente, quanti iscritti hai al corso universitario e via dicendo, cioè vengono fatti dei calcoli per cui la biblioteca paga di più o paga di meno a seconda del tipo di servizio e di licenza che acquisisce, ok? Quindi, come vedete, questa norma lascia uno spiraglio, ma è uno spiraglio più stretto rispetto a quello che ingenuamente si può pensare leggendo la norma con poca attenzione.